Volevo avvisarvi che mi sono iscritto a Patreon Patreon è una piattaforma per supportare gli artisti e i creators che fanno video e roba su YouTube e non solo Se sceglierete di supportarmi avrete accesso a contenuti esclusivi tipo lezioni, videocorsi e tutto di livello accademico ovviamente per esempio ho fatto un corso di samuriding che è durato tipo 4 mesi ma è davvero davvero top ed è tutto su Patreon praticamente la prima lezione è già gratuita su YouTube quindi potete andare sul mio canale YouTube e vederla mentre per avere accesso al resto dovete diventare dei patron e ho messo tre livelli uno potete supportarmi con 3 euro, l'altro con 10 euro mentre quello del pacchetto più completo con 30 euro al mese lì trovate i maggiori contenuti tipo questo corso di songwriting ma non solo, troverete anche delle decostruzioni delle mie canzoni o delle cover o le basi delle cover quindi anche delle basi strumentali su cui potete cantare potete anche trovare i file HD audio delle mie cover quindi se vi sono piaciute e dato che non sono in streaming da qualche altra parte potete anche averle lì e non solo, ci saranno anche dei consigli per cantanti ed esercizi per cantanti con base originale per fare pratica e tanto tanto altro ancora i contenuti sono ovviamente in fase di aggiornamento quindi ogni mese ci saranno circa tipo un video, due video massimo e continuerò ad aggiornare i contenuti man mano che li vado facendo però già ho caricato un bel po' di roba che non è online da nessun'altra parte quindi potete trovarlo solo lì e nulla, se vi interessa un po' il mondo del canto, della musica e vi interessa imparare qualcosa su songwriting oppure capire un po' il retroscena di questi video perché ci saranno anche dei retroscena dove vi spiegherò un po' come si fanno queste cose che ti rubano un sacco di tempo davvero quindi non è una scemenza fare i video ma bensì è una questione abbastanza seria quindi cosa stai aspettando? diventa un Patreon e supportami ciao!